Mister, Empoli e Verona arrivano alla partita in due situazioni completamente opposte, l'Empoli con due vittorie e il Verona con due sconfitte seppur contro due grandi squadre come Roma e Juventus. Dalla sua esperienza, anche partendo basandosi sulla sua esperienza, è più difficile ripetersi oppure reagire a questa situazione? Diciamo che innanzitutto stiamo venendo da un'altra settimana di sosta e quindi in questa settimana abbiamo potuto vedere gli errori che abbiamo commesso sia contro la Juve che contro la Roma. Ne abbiamo parlato abbastanza. La seconda cosa è che dovremmo guardare noi e pensare a noi stessi. Sappiamo che veniamo da due sconfitte, anche se contro grandi squadre. È un pareggio dove abbiamo perso due punti a Bari e quindi dobbiamo pensare che bisogna ritrovare la via giusta, la via dei tre punti, facendo una gara gagliarda, sapendo che è una partita importantissima, dove affrontiamo una squadra, una nostra diretta concorrente per la salvezza, che è il nostro obiettivo. E dovremmo pensare a noi, prima di tutto pensare a noi, a imporre il nostro gioco con la cattiveria giusta, agonistica, sin dal primo minuto. Ecco, un Empoli che si è presentato anche molto bene, insomma, si è ripresentato molto bene alla Serie A, al di là appunto dei sei punti nelle ultime due partite, anche un'ottima prestazione, la ricordiamo, in casa della Juventus. Insomma, cosa servirà al Verona per metterlo in difficoltà? A credere nei propri mezzi. Noi sappiamo che siamo una squadra, secondo me è un'ottima squadra con individualità importanti, qualità importanti e dobbiamo mettere in campo sabato per la ricerca di questi tre punti che mancano da un po' di tempo. Per continuare la scalata, come ho detto prima, per l'obiettivo finale. Sì, l'Empoli stava facendo, ha fatto due ottime vittorie nelle ultime due partite e comunque diciamo sicuramente è una squadra che sta bene, è in forma, qualità in mezzo al campo, quindi sarà la prima cosa a cui dovremo stare molto attenti e di conseguenza anche sia in attacco che in difesa. Si sono andate bene comunque le ragazze, sapendo che è una sfida importantissima e sono sicuro che faranno, sicuramente daranno il massimo e faranno del loro meglio.